Ad accomunare i due brani che Vincenzo Mascolo ci propone, così diversi per tono e ritmo, è la spiccata intertestualità, o se vogliamo la forma dell'omaggio a modelli letterari e non solo. La prima poesia, delicata e toccante, potrebbe suonare come una lirica confessione, non fosse che non è di sé o non solo di sé che l'autore sta parlando, ma veste i panni di Kafka, che si fonde con il suo alter ego Gregor Samsa, protagonista del racconto La Metamorfosi. La poesia fa parte di una serie di inediti dedicate ad alcune città e a personaggi che vi sono in vario modo legati. Il testo scelto per questa occasione è dedicato a Praga e assume la forma di una lettera che Kafka scrive a Milena Yesenska, giornalista e scrittrice cieca morta nel campo di concentramento di Ravensburg, che fu sua traduttrice e con la quale lo scrittore ebbe una breve relazione. Il secondo componimento è tratto dal poemetto Orfe, ispirato all'omonima opera musicale contemporanea del compositore islandese Johan Johansson, a sua volta dedicata al mito. Il testo è tratto dall'ultima sezione del poemetto, che ne conta 15 come i brani dell'opera musicale di cui vengono ripresi i titoli. Si tratta del monologo pronunciato da Orfe dopo aver ritrovato l'ombra di Euridice. Accanto a quelli sin cui messi in luce, nel testo presentato si individuano molteplici riferimenti intertestuali. Lo stile torrenziale e l'assenza di punteggiatura richiamano il flusso di coscienza che caratterizza tra gli altri l'Ulisse di Joyce, citato espressamente. Così, come viene evocato, un altro modello musicale, Eric Satie, di cui si menzionano le gimnopedie. La lettera ritrovata 3 giugno 1924 Mia adorata Milena Da molto tempo, è vero, non ti scrivo, ma non pensare che ti abbia già dimenticata. È solo che trascorro le giornate ad osservare il cielo dal mio letto, sognando di potermi alzare in volo, lasciando nella stanza, non so se morto o vivo, il corpo mio da insetto. Da Orfè Eccoci qui, seduti davanti al tavolo e al cavallo, entrambi senza affinimenti, a chiederci l'origine dell'ombra che affiora dai soprammobili di casa, mettendo a repentaglio la nostra alterità. La copia dell'Ulisse abbandonata sul fondo della libreria in segno di pietà sono io, dicevo, Molly Bloom, confondendo alla maniera di uno scrittore ottocentesco la letteratura con la fragile sostanza dell'amore, che non è liquida, come si sostiene, ma è riforma e gassosa, inafferrabile al punto che è inutile parlarne. Tanto non sapremo se parliamo dell'amore o della rata di mutuo da pagare. Nemmeno può aiutarci la poesia. L'amore sa eludere il linguaggio, scivola dai versi, ci incatena questa stanza satura dell'ombra che percorre indisturbata il tempo della storia che abbiamo attraversato. Via Fani, le lettere di vetro, via Caetani. Se fossimo figure di un romanzo, nella quarta forse scriverebbero la storia, fa da sfondo al viaggio di Orfè, nell'inferi di una quotidianità evocata da frammenti di memoria, rimandi, citazioni che si intrecciano tra loro, suggerendo che il reale si coagula nella misteriosa congiunzione di micro e macrocosmo, di spirito e materia. Così, questo andare notturno tra i ricordi e i resti della città ideale, i cinema de sé, la voce umana, l'etica della polis, le tre gimnopedis, l'amore, la bellezza, la poesia, si rivela un Bildungsroman dell'età matura, un diario esistenziale in cui pagina dopo pagina realtà e immaginazione si inseguono sempre più velocemente fino a confondersi, a dissolvere il confine che separa il mondo visibile dal regno delle ombre in una storia senza tempo, consacrata alla ricerca della luce.